I barbari rappresentano una costante minaccia per tutti i giocatori. Se un territorio è protetto da un valore di forza delle armate minore di 5, può avvenire una ribellione. Lancia un dado da 4 e aggiungi 1 al risultato. Se il totale supera il valore di forza delle armate presenti, rimuovi-le. E metti un dado da 6 di barbari e un signore della guerra al loro posto. In ogni turno i signori della guerra reclutano nuove armate, pari al proprio livello. In questo caso si uniscono all'orda un barbaro per il signore di primo livello e 3 per quello di terzo. Se il valore di forza delle armate dei barbari eccede il limite di popolazione del territorio occupato, cioè 5, i barbari cercheranno nuovo spazio, muovendo guerra a un territorio adiacente. Se non verranno fermati per tempo, i barbari prenderanno il sopravvento e vinceranno la partita.